Amici di Newsgeek.it, focus sugli schermi di questi due iPhone. Iniziamo con il focus sullo schermo di iPhone 5. Guardate la risoluzione, è veramente incredibile. Ora piano piano ci allontaniamo ed andiamo a focalizzarci sullo schermo di iPhone 4S. Entrambi i telefoni hanno veramente un'ottima risoluzione, a me sono piaciuti entrambi, preferisco la risoluzione dell'iPhone 5. Ecco torno qui perché ha dei colori veramente più vivi e rende meglio l'idea. Non togliendo comunque i meriti ad iPhone 4S che comunque riesce a tenere testa al suo fratello maggiore iPhone 5. Questo era tutto per questo video, un saluto a tutti, ciao.